Ben trovati nel mondo Made in Calabria, un progetto di marketing culturale, di comunicazione, un modo per raccontare il territorio Calabria come brand unico. Ma che cos'è Made in Calabria? Made in Calabria è un progetto appunto di sistema, intanto un portale internet aggiornato quotidianamente che racconta la Calabria appunto a 360 gradi con fotografie, immagini, dei vari elementi che fanno di questa terra, una terra assolutamente straordinaria da raccontare per quella che è l'attualità, ma anche per quelli che sono gli elementi storici del territorio stesso. E poi il volume, un prodotto editoriale che si affianca al web per raccontare la Calabria come sistema, dai luoghi, i percorsi, le tradizioni, le feste religiosi, sino ad arrivare all'enogastronomia, le ricette, i piatti tipici e poi i mari carabresi. Cosa c'è sotto i due mari che circondano questo territorio in oltre 800 chilometri di costa? I personaggi e le personalità che hanno reso grande questo territorio. Insomma, un volume che in 450 pagine sa raccontare la Calabria migliore. Tutto questo progetto è stato reso possibile da 105 imprenditori che hanno detto di sì. Si sono uniti, si sono messi in rete e hanno quindi finanziato il progetto dal basso. Da questa prima dinamica ne è partita un'altra, l'incontro con il pubblico, pubblico e privato insieme. Una serie di enti che ci hanno detto di sì e si sono uniti ai privati per creare un sistema unico, pubblico, privato, che rilanciasse il brand Calabria.